buongiorno a tutti di ritorno dal mercatino di limbiate di sabato ok magico e di conseguenza eccoci qui con gli acchiappi del momento roamer anfibio alla significativa significativo prezzo di euro 30 un quasi non c'è in un long 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 quella cosa lì carinissimo ben 20 euro funzionante poi questo non vi dico il prezzo un compresso ok molto bello preso al banco di cesare un compresso della esatta cesare che chiedo scusa al banco del dario cesare mi ha invece portato una maglia del bracciale dello zenith dal dario un bellissimo regalo di questo swatch e da un amico che anche la pace la pazienza di essere un follower questo il pigna aglianico un amico follower che ha degli orologi meravigliosi ma l'abbiamo buttata sull'alcolico ci vediamo tutti domani in quel di casale monferrato un saluto a tutti